L'occupazione per i giovani è uno degli obiettivi comuni su cui è nato questo governo. Noi dobbiamo dare lavoro ai giovani e abbiamo una ricetta che può immediatamente offrire la possibilità che questo lavoro si crei e cioè zero tasse per gli imprenditori che assumono giovani disoccupati. Cioè gli imprenditori che assumono ragazzi non devono pagare quelle tasse che fin qui hanno rappresentato un disincentivo all'assunzione. Pensiamo che questa possa essere una buona ricetta. E poi se attraverso le politiche fiscali di detassazione come nel caso dell'eliminazione dell'Imu o di non appesantimento fiscale come il non aumento dell'IVA si può ambire ad una ripresa dei consumi che è capace a sua volta di generare nuova intrapresa. Un terzo ambito sul quale noi puntiamo molto è quello delle esemplificazioni. Chi ha degli euro in tasca e vuole investire deve poter investire immediatamente senza incorrere nei lacci e nei lacciuoli della burocrazia. Quindi un forte impatto delle esemplificazioni è la nostra previsione positiva. Se questi atti, queste azioni funzioneranno noi possiamo avere una bella speranza per la seconda metà del 2013. di Cetta Napolitano.